Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Rainsport. Ieri, per chi non lo sapesse o non l'avesse visto se lo fosse perso, ho fatto una live dopo tanto tempo proprio provando la Closed Beta di Rainsport e questo grazie a Vincenzo Nixos123 che ringrazio ancora nuovamente. Allora, che cosa è emerso da questa live di un'ora? Premessa, siccome è una Closed Beta, quindi un progetto in fase di evoluzione costante in cui stanno lavorando sul codice giorno dopo giorno, non possiamo ovviamente dare un giudizio definitivo. Stiamo parlando di una Closed Beta da 9,5 GB che normalmente un gioco di questi sono 50-60 GB, quindi giusto per farvi capire. Stiamo parlando di un gioco oggi in beta che offre 4 macchine e 4 circuiti, non di più, che mi ha dato come prima impressione un titolo che deve essere riorganizzato a livello di menu, secondo me, soprattutto la parte di configurazione che è stata per me un po' macchinosa. Ma devo dire la verità, avendo poco tempo a disposizione, non mi sono tanto messo a vedere i menu e come funziona eccetera. È un titolo che in questo momento vi offre la possibilità di testare il single player e il multiplayer o quelle che saranno le aspettative. Stiamo parlando di un multiplayer in cui bisogna registrarsi alle gare e quindi è molto incentrato su quello che è l'eSport e il safety rating come un po' iRacing, devo dire la verità. Non abbiamo notizie di come verrà sviluppato la parte multiplayer, credo di poter azzardare da quello che c'è scritto nei menu, poterlo giocare in locale, quindi probabilmente con dei server in privati, delle lobby pubbliche e appunto la parte competition cadenzato da un calendario. C'è una parte single player in cui purtroppo ieri non ho potuto testare la IAF, probabilmente sbaglio qualcosa io, ma ripeto, per i tempi stretti che avevo ieri per testare la beta ovviamente non mi sono potuto troppo attardare. Poi una parte Rensport tipo Simil Garage, Gran Turismo, chiamiamola così, passatemi questo paragone in cui c'è la possibilità di vedere lo showroom e la parte dei replay che sono veramente fichissimi perché sono riusciti comunque a sfruttare il motore che utilizza l'Unreal Engine e a ottenere qualche cosina in più secondo il mio parere di quello che è stato fatto con Assetto Corso Competizione che ricordo che comunque è datato ormai di 5 anni. Quello che è emerso dai commenti della live è la preoccupazione proprio dell'utilizzo dell'Unreal Engine 5 che all'inizio ha proprio presentato dei problemi di galleggiamento delle macchine e del ghosting delle ombre, cosa che è successo a me nella live di ieri, ma non è successo a Vincenzo Nixos 1, 2, 3. Quindi questa perplessità dobbiamo ovviamente lasciare il tempo agli sviluppatori di Rensport di vedere come ottimizzarlo perché devo dire che graficamente ragazzi però è strafico. E' meglio di Assetto Corso Competizione in molte situazioni, soprattutto la parte centrale in cui molti utilizzatori di Assetto Corso Competizione avevano notato questa cosa che non sia a fuoco, non lo so, questa problematica che ho avuto anch'io che poi è stata risolta. Qui invece il dettaglio grafico è veramente stratosferico. Però, 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 l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 per tornare sull'argomento purtroppo conferisce una somiglianza pazzesca con il titolo della Gunos. Quindi mi chiedo come Rensport potrà distinguersi come fanno tutti gli altri, cioè oggi se vedete passare un'immagine di R-Factor 2, subito di R-Factor 2, se passa uno di iR Racing, iR Racing, se passa uno di Assetto Corso Competizione, Assetto Corso Competizione. Potrei continuare con tutti i titoli che ci sono. Project Cars 2 con Automobilista 2? No, quello è difficile, bisogna fermarsi un attimino e vedere quale è uno e quale è l'altro. Proprio perché Automobilista, come Rensport, eredita lo stesso motore di grafico che utilizza Project Cars 2 e in questo caso, quindi il Madness, se non sbaglio, sì, e Rensport utilizza un Real Engine come fa Assetto Corso Competizione. E infatti nella live, che potete andare a vedere sul canale, c'è un passaggio in cui metto la telecamera drone, che adesso ci arriviamo, in cui si vede la M4 sul Nurbruring e ragazzi, chiedendo, potrei, riuscirei ad imbrogliarvi e fare un trailer per un campionato su Assetto Corso Competizione? Tutti hanno risposto positivamente. Quindi non so come i ragazzi di Rensport riusciranno a distinguersi, anche graficamente, da Assetto Corso Competizione. Tornando alle visuali, quindi quella che mi ha impressionato è drone e voi mi direi, vabbè Fabrizio, ma nella simulazione mi parli delle telecamere? Sì, vi parlo delle telecamere, vi parlo delle impostazioni che danno con questo UI, quindi User Interface per l'utilizzazione delle telecamere, perché io da commentatore e le persone che fanno esport, ad avere questo tipo di strumentazione in cui si ha il controllo totale con uno strumento interno della regia, non è da poco ragazzi. Perché chi fa live sa quello che deve avere, a parte OBS, Streamlabs, varie applicazioni, i tempi, eccetera, per offrire il massimo del dettaglio e delle informazioni possibili per raccontarvi le gare. E devo dire che già da questa beta hanno fatto tantissimo, veramente tanto, e questo tanto di cappello. Si arriva a uno dei componenti che secondo me distinguono Rensport dal resto del mondo. Per quanto RaceRoom fosse uno dei titoli più forti per quanto riguarda il comparto audio, Rensport personalmente mi ha stupito, secondo me è stratosferico. In particolare la SLS, ragazzi, quando vi chiama la marcia, andate sulla live a sentire che sono impressionato proprio. Che il motore ruggisce, oppure la M4 ferma sul rettifilo del Nurbruring, che si sentono le vibrazioni metalliche degli scarichi con l'eco dietro. Cioè, qualcosa di meraviglioso ragazzi. L'audio è pazzesco. E secondo me il titolo si distinguerà proprio da questo comparto. Veramente, è un qualcosa di mostruoso ragazzi. Cioè, mi piace da morire. Infatti molti che seguono dicono, ah mamma mia che audio spettacolare, lo sto ascoltando dal cellulare, si sente benissimo, fantastico. Mamma come ruggisce sto motore. Addirittura c'è qualcuno che ha detto in un simulatore, il 70% lo fa l'audio. Questo ovviamente è opinabile, però un bel audio, bello coinvolgente ragazzi, è qualcosa che mi fa sicuramente piacere. Che proprio ti coinvolge per ripetermi durante la guida e l'immersione. Vediamo al dunque. Parliamo di force feedback e di fisica. Ripeto, stiamo parlando di un programma in fase beta di sviluppo, development in corso. Quindi non è che possiamo giudicare. Stiamo parlando di cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa dovrebbe essere rivisto. Qual è il concept, l'idea, come stanno agendo sui vari compartimenti, quindi grafica, eccetera. Quindi occhio di quello che dico, perché se domani esce un aggiornamento, probabilmente annulla tutto quello che sto dicendo in questo video. Mi potreste dire, ma perché lo fai? Ma perché è figo parlare di Rainsport e delle novità. Allora, il force feedback per me è veramente molto molto interessante, perché comunque conferisce delle informazioni dettagliate per ogni singola auto. È distinta per ogni singola auto. Cioè la 992 avete una sensazione al volante diversa dalla M4. Succede anche con gli altri, mi direte. Sì, è vero, però ci sono dei dettagli, ad esempio la gommosità che vi restituisce la M4 non ve la dà la Porsche 992 e neanche la R8. Il che fa presagire che stiano lavorando su questo tipo di dettaglio proprio per conferire un coinvolgimento ancora maggiore e che stanno lavorando bene sul comparto force feedback. A livello di fisica non ho notato particolari comportamenti bizzarri delle macchine, ho soltanto una perplessità per quanto riguarda la frenata. Ma questo credo che dipenda, e non per difendere il titolo, ma perché vi ricordo che ho avuto pochissimo tempo per la configurazione e le varie regolazioni, ma possa dipendere dalla curva che ho scelto io di frenata sul software della mia P2000 in cui io chiedo che ci sia subito immediatamente un picco di frenata molto alto e che poi ci sia una certa discesa. Una specie di simulazione di trail braking quasi fatto dal software. Allora, con alcune auto tipo la M4 il funzionamento è praticamente perfetto. La frenata con il classico pestone rilascio funziona benissimo. Poi la SLS mi ha fatto mentire due volte a dire il vero perché ho provato sia con il pestone che con la frenata, diciamo, frenata non frenata, chiamiamola così, passatemi sto termine, e non ha tanto funzionato. Quindi penso che bisogna andare a rivedere la mia configurazione della pedaliera e anche all'interno del gioco. Però è l'unica cosa che mi ha lasciato un po' così, proprio perché dovevo anticipare parecchio le mie frenate. Una cosa che mi ha veramente sbalordito invece è il gioco del trasferimento dei carichi, soprattutto con la SLS che secondo me è simulato molto bene proprio per la conformazione dell'auto, con questo motore ultra potente davanti che spinge bene dietro e quindi si alleggerisce molto, soprattutto nelle fasi in cui l'auto va ad aprirsi, cioè che entra in coppia quando apre, come si diceva, mi ricordo con i motorini, quando apre quindi entra in coppia, soprattutto negli spostamenti veloci in quelle curve di Hockenheim in cui si sente che lo chassis lotta con le gomme per cercare di rimanere in pista e per evitare di uccidere il pilota. Veramente fantastico. Nella parte finale di Hockenheim anche lì c'è un cambio di traiettoria in cui se tu non alzi il piede, non hai questa sensibilità, la fisica lì ti dice no basta è impossibile, esci fuori. Ed è quello che succede. Mi piace tanto perché comunque è un titolo che è ragionato in questo senso qua. L'unica cosa quindi che dovrò rivedere è sicuramente appunto questo discorso della frenata, che spero sia soltanto una problematica mia di configurazione. Per il resto devo dire che ho un'impressione molto positiva di Rainsport e come ogni titolo in fase di sviluppo bisogna lasciare il tempo agli sviluppatori. Spero però di ottenere presto la mia personale beta per poterci girare il più possibile perché ovviamente queste sono solo le primissime impressioni che sono acerbe e che non hanno nessun tipo di valore critico ma è bensì un amico che vi sta dicendo no l'ho provato sai c'è questo, questo che è figo e poi ovviamente bisogna approfondire il discorso con ore e ore di prove. Quindi per me è molto positivo l'impressione, qualche dubbio rimane per quanto riguarda la parte della scelta dell'Unreal Engine. Spero veramente che mi possano smentire. Le aspettative a livello di multiplayer e sport e competition è altissima. Secondo me c'è un hype altissimo, stanno preparando una parte safety rating degna di questo nome. Rainsport è tutto da scoprire ragazzi e spero di poter testare ancora nuovamente anche gli aggiornamenti che porteranno e potervene parlare magari in live. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possiate intervenire nei commenti per dire la vostra opinione, fate domande, cerchiamo di andare a scoprire delle news su questo nuovo simulatore che spero possa uscire rapidamente perché più ce ne sono e meglio è. Se il video vi è piaciuto pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale ragazzi, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto, un abbraccio. Ciao!